Care amiche ed amici, qui ancora di nuovo il vostro Sant'Enciane dal vivo, con un'altra pillola di saggezza, un'altra breve lezione che forse tutti i miei amici ed amiche buddhiste già conoscono, però non è mai il caso di non ribadirle queste cose, quindi viene sempre bene e adesso vi introdurrò alle quattro nobili verità in un altro corto messaggio, in un'altra corta trasmissione, quindi cercherò di essere breve e di essere essenziale. Le quattro nobili verità. La prima verità è costituita dalle vere sofferenze, Dukka, ovvero gli aggregati fisici e mentali che sorgono sulla base di azioni contaminate, e delle afflizioni mentali. Esse comprendono tutte le attività della mente e del corpo in un essere ordinario, eccezione fatta per quelle generate da pure aspirazioni, meditazioni e così via. La seconda verità è costituita dalle vere origini, Samuda, la fonte della sofferenza, ovvero le afflizioni mentali e le azioni da esse contaminate. La terza verità è costituita dalle vere cessazioni, Niroda, l'estinzione della sofferenza e della sua origine. La quarta verità è costituita dai veri sentieri, Marga, ovvero i mezzi attraverso i quali è possibile conseguire la cessazione. Le quattro nobili verità sono definite nobili, aria, sia in quanto sono state insegnate dai nobili Buddha superiori, sia in quanto capaci di rendere nobili o superiori gli esseri ordinari. Ognuna delle quattro nobili verità è caratterizzata da quattro aspetti per un totale di sedici attributi. La forte produzione, D, la condizione. Tre vere cessazioni, A, la cessazione, B, la pacificazione, C, la ospicabile elevazione, D, il definitivo emergere. E quattro veri sentieri, A, il sentiero, cioè mi immagino il Buddha Dharma, B, l'opportunità, C, il conseguimento, E, D, la liberazione. Spero che con questo breve riassunto delle caratteristiche e delle proprietà delle quattro nobili verità enunciate da Sakiamoni Buddha io possa aiutare tutte e tutti voi nel seguire il sentiero buddista e praticare la meditazione buddista. scusatemi per i miei errori di lettura non sono un vero speaker sono un utente come voi che cerca di comunicare cose che considera importanti quindi vi ringrazio della vostra attenzione e anche della vostra pazienza qualora io pronunci male qualcosa o compia degli errori di parola. Grazie a tutti per seguirmi e dal prossimo episodio. Grazie a tutti.